Una bella occasione per movimentare il paese di Capodorlando dopo anni di buio a causa della pandemia e portare un po' di gente in giro grazie alla musica, al cibo e al divertimento. È tutto pronto per la prima edizione di Capoverso Giovani Talenti, la manifestazione organizzata da Capoverso, l'associazione di giovani orlandini nata da poco tempo ma già pronta a farsi sentire. Tutti in piazza domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio. Capoverso nasce da un'idea dei giovani per far sì appunto che la nostra comunità possa rinascere e superare i tempi difficili che in questi ultimi anni ha affrontato e dall'altro lato possa far sì che i giovani si possano confrontare realmente e concretamente con le istituzioni e che così vengano appunto ascoltati. Al momento siamo otto giovani da giorno 30 apriremo ufficialmente i tesseramenti dell'associazione Capoverso. Si tratta di una manifestazione che da un lato andrà a far esibire nella piazza principale di Capodorlando quindi in piazza Matteotti i giovani talenti del territorio e dall'altro accoglierà varie aziende, vari locali che si vogliono mettere in campo e faremo uno street food lungo tutto il corso di Capodorlando.